Nuova puntata, la ventesima, come ogni domenica a partire dalle 1220, con la nuova edizione 2017-2018 di Linea Verde, il programma di Rai 1 dedicato all'agricoltura, all'ambiente e a tutto ciò che lo circonda. Alla conduzione abbiamo sempre Patrizio Roversi e Daniela Ferolla. Linea Verde domenica La domenica conferma la sua vocazione di programma itineranti nei territori nazionali attraverso il racconto della moderna agricoltura italiana. Una trasmissione che, partendo dal campo attraversa tutte le fasi della filiera fino al mercato, riuscendo a focalizzarsi sui temi di maggiore attualità del settore.Linea Verde, ventesima puntata 28 gennaio 2018 La puntata dalla 500 alla 1 oggi ci porta in Toscana, in una parte dalla 500 alla 1 Toscana forse meno conosciuta dal grande turismo, ma di grande fascino il Monte Amiata. Sarà un viaggio alla scoperta di questi luoghi che la stessa regione sta cercando di rilanciare e valorizzare attraverso progetti particolari legati all'identità.Patrizio Roversi ripercorrerà la storia di questa terra, cominciando da una figura mistica come quella di David Lazzaretti.Mala Amiata è anche sinonimo di miniere che dall'800 furono il sostentamento di buona parte della popolazione di questi luoghi.Dalle miniere si passerà alle specificità locali come la Castagna IG.Daniela Ferolla invece farà scoprire luoghi di grande fascino e non solo.Da chi ha dedicato la sua vita alla tutela di razze autoctone in via di estinzione fino ad arrivare a chi valorizza tutti i giorni questa terra con prodotti d'eccellenza riconosciuta a livello internazionale e in caso dei formaggi locali.